Con Internet Senza Limiti di Telecom Italia ho trovato un video con una sorprendente storia sulla forma della pizza. Nasce in un ristorante napoletano dove la consegna a domicilio avveniva lanciando le pizze come frisbee. Una capricciosa! Il sistema fallì miseramente, ma pur di non rinunciare alla pizza, si inventò la consegna porta a porta. Ci sono lanci più riusciti! Scegli Internet Senza Limiti entro il 31 marzo. Hai l'attivazione della linea telefonica e il Canon è gratis fino al 31 agosto. Chiama il 187! Chiama il 187!